Il secondo autore dell'attacco nella chiesa di Saint-Etienne du Rouvray è stato formalmente identificato come Abdelmalik Petijan, mentre l'Isile ha diffuso un video dei due assalitori 19 anni. Petijan, a differenza del suo complice Adel Kermish, non aveva mai subito condanne, era stato però segnalato dal 29 giugno per aver tentato di andare in Siria e dal 22 luglio un sospetto dalle fattezze molto simili, era ricercato come potenziale attentatore in seguito a informazioni inviate in Francia dall'intelligence di un altro paese. Suor Daniel si trovava nella chiesa di Saint-Etienne du Rouvray. Ho avuto paura soprattutto quando sono entrati, ricorda, ci siamo detti moriremo. Quando li ho visti entrare ho pensato ci siamo, è finita, erano talmente accaniti, determinati, dicevano voi cristiani ci eliminate, era un questo il tono della conversazione e gridavano. Altre tre persone dell'antourage familiare di Petijan sono state fermate e interrogate per raccogliere informazioni sull'attentatore. Resta in stato di fermo anche il sedicenne algerino bloccato martedì e il cui fratello è partito nel 2015 per l'Iraq o la Siria con i documenti di Adel Kermish.